Ho una differenza piuttosto interessante, vi posso viaggiare dall'euro ai 2 euro circa di differenza moltiplicati su migliaia di vendite sono veramente 1000-2000 euro a fine mese che posso avere vendendo lo stesso prodotto e la stessa quantità. Questo è il primo aspetto che consiglio che vi do. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video parleremo della marginalità, la marginalità che magari in certe situazioni, in certi momenti storici può diminuire. In questo video qui vedremo però appunto 5 5 strategie molto importanti da tenere in considerazione per poter aumentare la vostra marginalità del vostro account. Allora andiamo direttamente ad analizzare la prima strategia. Nel momento in cui si ha un prodotto, ok, un prodotto che si vende su Amazon, è da guardare innanzitutto quali sono le spese di spedizione del prodotto, sia se abbiamo una logistica esterna, sia che abbiamo una logistica interna. E' molto importante tenere in considerazione che per esempio Amazon ha degli scaglioni molto, molto ravvicinati. Quindi può capitare ad esempio che se io per esempio ho un prodotto che pesa 901 grammi, ok, vedete, passo da spendere 4,66 euro a 5,24 euro. Sono circa 50-60 centesimi di differenza e quindi sono 60 centesimi di profitto che posso fare. Profitto che moltiplicato per magari mille vendite al mese, parliamo quindi di 600 euro, moltiplicati per magari un anno, sono 6-7 mila euro di profitto, insomma, di differenza, averle e non averle. E quindi cosa dobbiamo fare? Dovremmo fare in modo che questo prodotto qui magari o alleggiare la scatola o trovando il modo di alleggere il prodotto e facendo riscammerizzare e poi danno lo stesso in modo che passi ad esempio tra una categoria e l'altra. L'altro modo è anche valutare le dimensioni del prodotto perché magari un centimetro in più, un mezzo centimetro in più, mi fa passare per esempio da un pacco standard a una busta grande o un pacco fuori misura piccolo, insomma. Cioè devo un attimo valutare come mi viene collocato il mio prodotto perché mi capita sempre 900 grammi, ok, parliamo sempre lo stesso. E per ipotesi fosse spesso 6 centimetri, lo riesco a ridurre magari a 4 e mezzo, così sono sicuro, viene inserito qui. E quindi c'è una bella differenza tra spendere 4,66 o addirittura 5,24 rispetto a spendere 3,53. Ho una differenza piuttosto interessante, vi posso viaggiare dall'euro ai 2 euro circa di differenza, moltiplicati su migliaia di vendite, sono veramente 1000-2000 euro. a fine mese che posso avere vendendo lo stesso prodotto e la stessa quantità. Questo è il primo aspetto che consiglio che vi do, è valutare bene il vostro packaging, valutare bene i costi di spedizione del prodotto. Un altro aspetto molto importante è la parte del sourcing. Ho preso come esempio il sito Alibaba, ma in generale. Quando ho dei problemi nella vendita e sulla marginata del prodotto, mi devo rivolgermi naturalmente ai miei fornitori e chiede a lui, ho problemi, ho questi problemi qui. Ci sono dei modi per poter aumentare la mia marginalità? Mi puoi proporre degli extra sconti per la situazione? Mi puoi proporre ad esempio degli sconti se faccio degli acquisti in massa? Mi puoi proporre degli sconti se acquisto per esempio anche l'altro prodotto da te? Mi puoi proporre degli sconti se arriva un certo volume di vendita annuale, quindi alla fine dell'anno mi fai un credito che posso utilizzarlo, per ipotesi. Altra cosa importante è quella di provare a rivolgersi e trovare un secondo fornitore e quindi fare una comparazione di prezzo, in modo da non essere legato unicamente da un unico fornitore stesso. L'altro aspetto sempre interessante che magari spesso viene trascurato è la classificazione nella fase di importazione del mio prodotto. Classificare un prodotto in un certo modo o in un altro modo comporta un aumento dei costi dei dazi di importazione. L'aumento può essere anche di qualche punto percentuale, ma il qualche punto percentuale su volumi di dosi importanti sono parecchi soldi insomma. Tenete in considerazione che stiamo limando prima parte logistica, un po' dalla parte col fornitore, un po' controlliamo questa situazione qui. Ovviamente le tariffe doganali sono un cosa un po' ostica e quello che vi consiglio, per esempio, a rivolgersi ad esperti che vi possano indicare, per esempio, le cose che devono andare corretto e questo nel caso noi vi possiamo aiutare in questo senso qui. Altro aspetto è un revampo del prodotto. Spesso non ci pensiamo perché siamo lì, dobbiamo andare avanti per la stessa strada, dobbiamo fare tante volte un passo indietro e capire cosa fare. Se non ho più margini con quel prodotto lì, ok? Perché ci sono stati aumenti dei costi, della benzina, aumenti dei costi in maniera delle prime e quant'altro, quello che devo fare è o decido di portare il mio prodotto a un livello premium, il massimo che posso venderlo all'interno di Amazon, sul mio e-commerce per ipotesi e quant'altro, quindi lo rendo il top, plus ultra e magari tendo ad aumentare il prezzo, oppure posso fare un revamping del listino magari in maniera, tra virgolette, negativa, tra virgolette. Se prima gli davo 100 grammi, adesso cerco di dargli magari 80 grammi, per esempio, della quantità del mio prodotto, oppure cerco di togliere alcune tool, alcune caratteristiche che magari, sì, sono interessanti, ma non sono così fondamentali per clienti nel momento in cui mi fa l'acquisto. Queste cose qui vanno a limare in maniera percentuale minima, ma comunque, nell'ambito del sistema di ottimizzazione che sto facendo, mi portano a dei vantaggi importantissimi, insomma, sul mio conto economico finale. Altro aspetto sono poi le pubblicità. Le pubblicità, se non sono tenute sotto controllo, sono una spesa, sono una spesa che ti possono fare, per esempio, anche rinunciare a dire di vendere, per esempio, online, su Amazon. È come avere e pagare l'affitto di un centro commerciale che non ti porta, nella sostanza, i clienti. Mi sarà sicuramente capitato, insomma, che ci sono i centri commerciali dove magari l'affitto costa 5-10 mila euro, anche di più, anche 20 mila euro, dipende dal negozio. E sono sempre pieni, pieni questi centri commerciali, tranne i nuovi finché il periodo di Covid, ma anche i negozianti presenti all'interno del centro commerciale. Cioè, esce uno, entra un altro con facilità. Ci sono, invece, i centri commerciali dove, invece, è tutto vuoto, ok? Dove le persone, cioè, sia i negozi sia anche le persone che non ci vanno. Pertanto lì l'affitto diventa veramente un costo, un costo eccessivo. Anche qui, la parte della pubblicità, la parte della pubblicità è il modo che abbiamo noi per farci vedere all'interno di Amazon, per poter posizionare il nostro prodotto. È fondamentale che ci sia, è fondamentale che ne abbiamo il controllo della pubblicità all'interno di Amazon. Infatti è per questo, ad esempio, che noi stessi facciamo dei corsi dedicati, appunto, alla pubblicità, allo sviluppo della pubblicità, a tenere sotto controllo la pubblicità, ma anche facciamo dei servizi nei confronti dei nostri clienti, per poter migliorare questo aspetto. È questo aspetto che sta diventando sempre più importante all'interno di Amazon. Quindi è molto importante che voi andiate, per esempio, sul vostro listino e capiate direttamente, ad esempio, quali sono i termini di ricerca che non convertono, vanno completamente tolti. Una volta, magari, si lasciavano andare a una pubblicità a basso costo, ad esempio, su dei termini di ricerca che potevano dare sì visibilità, ma non portavano a conversione, ma davano comunque visibilità. Attualmente, se nell'ottica di un sistema di aumento della marginalità, si si focalizza solo unicamente sui termini di ricerca che convertono gli altri, magari per il momento, per la situazione o perché devo ottimizzare, cerco, in sostanza, di magari non spendere budget pubblicitari su quei termini che, per l'appunto, non mi convertono. Quindi, nella sostanza, ragazzi, riassumendo. Uno, dovete avere un controllo sulla logistica e sul prodotto in modo da ottimizzare al massimo, al massimo, al massimo quelle che sono le spese in spizio. Due, dovete cercare di parlare con i vostri fornitori in modo da ottenere magari degli extra sconti e che vi guidino anche come ottenere questi extra sconti o chiedere altri preventivi. Guardare la classificazione del prodotto nel momento in cui, se importate il prodotto dall'estero, per esempio dalla Cina, guardare di non pagare eccessive imposte, eccessive dazi. Altro aspetto è aumentare il prezzo del prodotto, oppure fare un revamping e diminuire la quantità, togliere delle caratteristiche che possono essere magari, sì, interessante al prodotto, ma sono secondari nell'ambito di insieme, svolgono una funzione e quindi vi permettono di limare sempre centesimi o euro da qualche parte. Ultimo aspetto è quello della ottimizzazione delle campagne pubblicitarie e del fare in modo di, sì, utilizzare il budget pubblicitario, ma utilizzarlo in maniera appropriata. Bene ragazzi, se avete ulteriori dubbi su come, per esempio, ottimizzare l'immagine del vostro account, scriveteci a info.co.scuolecommerce.com che siamo ben felici di rispondervi. Mi raccomando, cliccate like, condividete con gli amici e ci vediamo al prossimo video. Ciao!